Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ho segnalato i rallentamenti per una perdita di carico avvenuta tra Valdichiana e Fabbro in direzione Roma, persi pannelli in galleria. Su raccordo Siena-Firenze in direzione Siena ci sono scambi di carreggiata per lavori, tra Firenze e Impruneta e San Casciano Nord e tra Monte Rigioni e Siena. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, per i lavori è la linea 3 della tramvia, ampliato il cantiere di via Corridoni all'altezza di via Pisacane, il meteo e l'amma prevede per oggi. In Toscana cielo variabile con rovesci sparsi e isolati temporali, più probabili sulla costa, in mattinata, sulle zone interne e nel pomeriggio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!